Musica 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 En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado e il corso amore di Gesù è la mia vita in questa seconda stazione pediamo per i più pobres di nostra comunità per i desamparati per i quelli che fanno una malattia pediamo anche per la famiglia Reyes Rodríguez che fa 40 anni partecipando in queste fieste in honor a San Juan di Dio con questa ermita che il Signore le rinda abundanti bendicioni e a cada uno di noi per intercessione di San Juan di Dio ci colmo di lo necessario per la nostra vita e per la gloria e il avanza Tuo Signore Gesù Amore Grazie Grazie